Salve a tutti, sono Giofranco Marini e vorrei segnalarvi una risorsa che ho realizzato con Mindomo che è una raccolta di strumenti liberamente disponibili e fruibili sul web focalizzati tutti quanti intorno ad un unico centro, cioè quello della narrazione digitale, del digital storytelling, del narrare storie naturalmente subordinata a tale attività alla didattica questa mappa tematica centrata sullo storytelling è stata il manuale online, l'ambiente di lavoro online utilizzato durante un corso di formazione e ringrazio i colleghi che hanno partecipato a questo corso e che hanno contribuito all'organizzazione di questa mappa si tratta di una mappa in cui ho raccolto quello che io conosco sullo storytelling ed è disponibile in rete quindi riflette i limiti delle mie conoscenze, perciò non pretende certo di essere una mappa esaustiva si tratta di una mappa che aveva due obiettivi il primo è quello di raccogliere in un unico luogo e archiviare in modo ordinato le risorse online sullo storytelling, quindi video, webinar, mappe, applicazioni, video tutorial, articoli di approfondimento e così via però il secondo obiettivo, quello più interessante, spero di esserci riuscito era quello anche di costituire un ambiente in cui chiunque fosse interessato all'uso didattico della narrazione potesse in autoapprendimento sviluppare un proprio autonomo percorso sullo storytelling quindi questa mappa può essere utilizzata autonomamente come percorso sullo storytelling uno dei pregi ma anche difetti di questa mappa è che contiene 472 argomenti che sono quasi tutti link a risorse vediamo un po' la grammatica di questa mappa, come navigarla vediamo anche i singoli rami e cominciamo dai riferimenti normativi il più ingrandisce e abbiamo degli altri nodi come si può vedere posizionando il cursore del mouse su questa icona che è un'icona del testo abbiamo delle istruzioni o dei consigli o dei chiarimenti io qui ho indicato cosa si può trovare in quel link e questo è un link cliccando andiamo a vedere la strategia di Lisbona infatti il primo ramo è dedicato a riferimenti normativi alle tassonomie di obiettivi, le competenze chiave e così via bene, ingrandendo possiamo approfondire abbiamo delle immagini, degli articoli eccetera fino all'ultima versione delle DigiComp e delle DigiComp Edu il ramo più importante della mappa è quello dedicato alle applicazioni per la narrazione digitale se clicchiamo troviamo queste applicazioni suddivise in una arbitraria tassonomia per tipologie di narrazione quindi il podcast, il visual storytelling, l'ebook, lo storytelling multimediale, story map e via dicendo vediamo cosa possiamo trovare prima di tutto possiamo trovare una spiegazione di quelle che sono le applicazioni e i vi contenute il tutto è preceduto da degli archivi di applicazioni questi sono archivi di applicazioni alcuni curati da me, Roberto Scorocchini, Annalita Vizzari eccetera cliccando andiamo all'archivio archivi di applicazioni e quindi per esempio il podcast ecco ho cercato per ogni sottoramo dedicato a una delle varie tipologie di narrazione digitale di inserire in primo luogo una serie di articoli e approfondimenti che chiariscono quella tipologia di narrazione la sua grammatica, i suoi codici, le sue forme e modalità di utilizzo e quindi delle guide, una videoguida curata da me presentazioni, idee per utilizzare il podcast nella didattica eccetera seguono, è così, questo tipo di struttura l'ho utilizzato per tutti gli altri sottonodi che non illustrerò seguono le applicazioni che io ho consigliato ce ne sono ovviamente tantissime altre io conosco queste, ho utilizzato queste per ognuna di queste applicazioni io ho indicato una recensione cos'è Podomatic quindi si clicca e si va alla recensione guide video tutorial ho utilizzato come criterio quello della attualità ho pubblicato le guide più recenti della lingua sono guide in italiano quando non erano presenti le ho realizzate io sono quasi tutte guide terzo criterio create da insegnanti e quindi in qualche modo lo storytelling è, come dire, curvato verso finalità formative, didattiche e quando ho potuto ho messo anche delle buone pratiche ecco, secondo me chiunque può autonomamente attraverso la lettura della recensione dell'applicazione attraverso l'uso di queste guide e attraverso la visione di esempi e buone pratiche procedere autonomamente a apprendere quell'applicazione a prenderne l'uso nella didattica e sperimentarlo dal momento che la mia proposta è quella di utilizzare il digital storytelling in un approccio blended in cui cioè le attività che fanno uso di questo approccio si svolgono in parte in presenza in aula e in parte online integrando in modo opportuno a seconda delle esigenze questi due spazi entrambi reali ma che vanno sapientemente e in modo equilibrato integrati appunto ho anche indicato in un altro ramo della mappa le applicazioni di supporto il criterio è lo stesso applicazioni per discutere ideare e collaborare applicazioni per la cura dei contenuti dobbiamo raccogliere le risorse che ci servono per creare i nostri racconti e allora Pinterest per esempio oppure per la valutazione formativa allora foro il rubris dovremmo valutare le attività narrative che svolgiamo ma anche per la verifica non solo per la valutazione ma anche per la verifica formativa come Caut o Plickers applicazioni per creare mappe che possono essere usate le mappe stesse per raccontare una storia o documentare un evento e quindi anche qui delle applicazioni volte a tal fine mappe mentali mappe concettuali eccetera e così via dobbiamo gestire l'interazione online con i nostri con le nostre classi per gestire i progetti di storytelling e quindi anche non so Edmodo naturalmente non c'è solo Edmodo c'è anche Fidenia e tante altre dovremo avremo bisogno di immagini di tantissime immagini ad alta risoluzione ed ecco qui alcuni repertori di immagini molte delle quali si possono utilizzare liberamente può essere utile per comunicare con i nostri studenti proporre e produrre dei videomessaggi o comunque lo screencast e quindi la tecnica di realizzazione dei video tramite la registrazione dello schermo del pc e della voce può essere utile e infine ambienti di vario tipo per esercizi per creare storyboard per creare modelli eccetera read or write think per tutte queste applicazioni ho indicato esempi video tutorial e così via nel ramo intitolato riferimenti teorici ho inserito quelle che sono articoli che trattano il digital storytelling da un punto di vista teorico Paolo Aghemo Barbara Bevilacqua articoli miei articoli tratti da riviste Anna Laghigna eccetera che riflettono le mie conoscenze in materia si tratta di raccolte oppure si tratta di articoli oppure si tratta di webinar e così via ma anche alcune risorse che riguardano la media education nel cui ambito rientra almeno in parte il digital storytelling e Simone Aliprandi il diritto d'autore che qualsiasi approccio digitale che implichi l'utilizzo dell'online e quindi del web noi utilizziamo abbiamo sempre a che fare con i problemi relativi al diritto d'autore e dalla privacy qui ho inserito degli esempi frutto del lavoro dei miei studenti come ulteriori casi che si possono prendere in esame ulteriori casi di applicazione del digital storytelling che si possono prendere in esame interessante potrebbe essere anche il ramo che ho intitolato corso qui si tratta dei materiali che sono stati messi a punto e prodotti da me durante il corso sul digital storytelling per l'insegnamento qui c'è una presentazione mia non so se interessi molto qui ci sono dei video che sono i webinar alcuni webinar sul digital storytelling che ho ottenuto questo è Gnam una rivista una rubrica sulle news intorno allo storytelling che io un po' scherzosamente ho pubblicato durante il corso si tratta di video che segnalano risorse sullo storytelling ciascuno di questi numeri di Gnam segnala 5 risorse interessanti sullo storytelling questa è una presentazione per chi volesse capire cos'è Gnam questi sono i diari di apprendimento di un corso sullo storytelling e qui abbiamo delle presentazioni che hanno a che fare con i vari aspetti dello storytelling variazioni narrative come creare una storia la musa transmediale i giochi di realtà alternativa la grammatica cinematografica eccetera eccetera e qui delle video guide che ho messo a punto io sempre sullo screencast su pensiero razionale pensiero narrativo e sulla formazione bene mi sono dilungato abbastanza ho ritenuto necessario questo lungo video questa guida proprio perché la mappa è molto ampia e quindi volevo dare anche qualche istruzione su come procedere alla navigazione e su quelli che sono i contenuti che la mappa presenta buona giornata a tutti e alla prossima